Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Allora oggi vi parlo dell'ultima riunione che abbiamo fatto con il nostro club del libro. Di solito questi video so che vi interessano molto perché abbiamo l'occasione di parlare di diversi titoli. Infatti come sapete se avete visto anche il video precedente oggi vi parlerò di cosa hanno pensato i lettori del club del libro, delle letture che avevamo scelto lo scorso mese a tema horror e soprattutto vi svelerò qual è il tema filo conduttore delle letture per il prossimo mese e vi dirò i titoli che abbiamo scelto di leggere così che anche voi potrete eventualmente se avete voglia unirvi a noi anche se siamo distanti. Allora comincio col farvi vedere come sempre la nostra location ovvero la casa della mia mamma. Anche questa sera, quella sera insomma ci siamo ritrovati lì per appunto scambiarci due opinioni sulle letture che avevamo fatto ma soprattutto insomma per stare in compagnia e per condividere una serata insieme parlando di cose belle cioè di letture. Come sempre abbiamo anche soddisfatto i nostri gusti mangiando un dolce che aveva fatto la mia mamma nel pomeriggio, dei dolcetti portati da un'altra signora, abbiamo bevuto tè e camomilla, abbiamo sempre una vastissima scelta di gusti quindi insomma la serata diventa ancora più accogliente, ancora più calda, ancora più amichevole quindi siamo sempre molto volentieri. Inoltre come sapete io sto cercando di ridurre l'uso della plastica ma mentre l'altra volta siamo riusciti a usare tutti delle tazze che non fossero di plastica, quindi tazze vere non bicchierini di plastica, questa volta purtroppo non c'erano abbastanza tazze in casa quindi tutti hanno usato in realtà il bicchierino di plastica ma io mi sono presa la tazza del mio babbo che è la tazza più bella del mondo, ve la faccio vedere e con quella ho bevuto la mia camomilla e mangiato i miei dolcetti. Bene insomma questo è come ci siamo organizzati per affrontare al meglio la serata e abbiamo subito cominciato a parlare di libri. Come vi ho detto lo scorso mese il tema era horror quindi avevamo tutte letture che insomma avessero questa tematica qui. Il primo libro di cui abbiamo parlato è stato I racconti del mistero di Edgar Allan Poe. Questo libro è stato letto da alcuni membri del libro e le opinioni in realtà non erano uniformi ecco ci sono state opinioni anche abbastanza diverse. Infatti alcuni lettori non hanno terminato la lettura del libro anche se in realtà poco importa, l'importante era rendersi conto di quale fosse lo stile di Edgar Allan Poe, quali fossero le storie che lui raccontava e in che modo tentasse di terrorizzare i propri lettori. Quindi sono state raccontate alcune storie, alcuni ne avevano lette alcune, altri altre. Quindi insomma alla fine abbiamo avuto una panoramica di questi racconti di uno dei capisaldi, del tema horror, del tema del mistero, dell'angoscia, del terrore. Perché ho detto che le opinioni erano diverse? Perché ogni lettore in realtà ha avuto un'esperienza diversa ecco con l'autore. C'è stato chi l'ha considerato veramente un genio, un precursore di tutta la letteratura horror che sarebbe venuta dopo. Addirittura è stato detto che forse Stephen King non sarebbe Stephen King se non ci fosse stato prima di lui Edgar Allan Poe. Inoltre alcuni lettori hanno sottolineato anche i riferimenti filosofici che l'autore ha nascosto all'interno delle sue storie. Ci sono stati altri lettori però che purtroppo non hanno apprezzato alcuni dei racconti letti, perché un po' troppo fantasiosi, un po' troppo assurdi, un po' troppo sopra le righe e soprattutto c'è stata la difficoltà nel leggere delle storie narrate in un italiano così ormai vecchio, obsoleto. Quindi quella tipica narrazione che rappresenta un po' il mondo dei classici e che mentre per alcuni è un elemento affascinante, per altri può essere proprio un elemento di distacco e quindi di blocco nell'affrontare questo tipo di letture. In realtà qui sorge una riflessione spontanea e anzi spero che anche voi mi diciate la vostra opinione. Che cosa è giusto fare nel momento in cui si traduce un libro scritto molti anni prima? Io mi ricordo che anche all'università quando ho frequentato un anno di lingue, nel corso che appunto trattava della traduzione, è stato affrontato questo tema, il fatto che alcuni traduttori pensino sia importante mantenere il linguaggio dell'epoca, qua c'è un libro che si è stato scritto nell'Ottocento anche nella traduzione italiana, anche se questa venisse fatta oggi deve mantenere un italiano più antico per l'appunto, altri invece che sostengono il fatto che ormai non c'è più quel tipo di italiano, ce n'è un altro e che quindi anche la traduzione si deve adeguare al tempo attuale. Anzi, questo dovrebbe essere un modo per rendere attuale un'opera come essa era attuale per i lettori per i quali era stata pensata. Voi che cosa ne pensate di questo? Fatto sta comunque che per quanto riguarda Poe, appunto, qualcuno ha apprezzato questa cosa, alcuni meno, e quindi il libro, insomma, è stato abbastanza discusso. Il secondo libro di cui abbiamo parlato è stato L'incubo di Hill House, il libro che ho letto anch'io. Se mi seguite su Instagram lo sapete perché ve l'ho fatto vedere e molti di voi mi hanno anche scritto dicendomi la loro opinione, insomma, su questa lettura. Bene, anche in questo caso il libro era stato letto da alcuni di noi e niente, abbiamo cominciato, insomma, a discuterne. In due parole la trama, velocissimamente, perché poi comunque ne parleremo anche nel video delle letture, in pratica è la storia di un professore che chiama, diciamo, in soccorso altri tre personaggi, quindi abbiamo quattro protagonisti, che si ritrovano all'interno di questa casa Hill House, che dice essere infestata e il professore si avvale dell'aiuto degli altri membri, appunto, degli altri ospiti, proprio perché vuole studiare i fenomeni che avvengono all'interno della casa per poi poterne scrivere un libro. Quindi ovviamente la storia parla dell'esperienza di queste persone all'interno di questa abitazione, un'abitazione, insomma, che è circondata da un vastissimo mistero e di ciò che succede loro durante le varie notti che trascorrono lì. Tutto il libro è visto dal punto di vista di Ilionor, che è una ragazza, appunto, ospite della casa e che rimane particolarmente coinvolta all'interno dello spirito che sembra animare questa abitazione. Basta, questo è quello che vi dico. Allora, dopo aver detto la trama, insomma, abbiamo cominciato a scambiarci le nostre opinioni. Allora, c'è stata una lettrice, mia sorella, che ha veramente adorato il libro. Lei ha trovato geniale, su questo ci siamo trovati tutti d'accordo, il fatto che il personaggio dalla cui bocca veniva raccontata la storia fosse questa Ilionor, che è anche il personaggio psicologicamente più debole. Quindi vedere come lei durante tutta la storia cambi, si modifichi, diciamo, la sua mente si evolva in base agli eventi che accadono all'interno della casa e come il suo animo rimanga rapito da un'abitazione che improvvisamente le sembra casa sua, forse proprio perché nella sua vita reale, nella sua vita fuori da quella casa non si era mai sentita veramente a casa, veramente in un posto sicuro. Quindi questo, insomma, è stata una cosa veramente particolare. È stato sottolineato il fatto che tra i personaggi si instauri un rapporto di amore e odio, nel senso che, anche se stanno all'interno della casa a pochi giorni, in realtà il loro rapporto cambi considerevolmente man mano che cominciano a conoscersi. Addirittura risulta interessante il rapporto tra i due personaggi femminili, che sono appunto Ilionor e Teodora, che condividono alcune esperienze, sembrano essere molto vicine dal punto di vista proprio intimo, sembrano, ecco, essere diventate amiche e si scopre invece come andando avanti emergano quelle gelosie, quelle cattivere, quelle piccole, non so, quei piccoli dispetti che molto spesso nelle amicizie tra donne avvengono. E qui l'ho trovata una cosa molto sottile che rappresenta un po' le amicizie che nascono tra le donne. Bene, comunque, per quanto riguarda la parte horror della storia, c'è da dire che il libro non è così tanto pauroso per quanto riguarda le scene horror, quindi non c'erano così tante scene da metterci paura. Ce ne sono state alcune che ci hanno fatto abbastanza, insomma, stare in tensione e che quindi ha portato tutte le persone del club che hanno letto questo libro a leggerlo il pomeriggio e non la sera. In realtà l'abilità di Shirley Jackson, chi ha letto questa autrice lo sa, non è tanto nel far paura con delle scene che, insomma, ci possono terrorizzare, no, e la sua abilità sta nel creare la tensione. Quindi leggere un libro in cui in ogni momento ti aspetti che arrivi qualcosa che ti terrorizza. E questo è un grande dono perché in fondo praticamente tutta la lettura è fatta di ansia e quindi, proprio per questo, dato che ti aspetti sempre qualcosa di terribile, non riesci a leggere il libro in una situazione in cui ti puoi sentire un po' a disagio, come per l'appunto se sei sola a casa o devi andare a letto e devi spengere la luce. L'unica cosa su cui i lettori sono trovati, tra virgolette, divise è stato il fatto che, come per esempio è una cosa che ho pensato anche io, il fatto che, secondo me, i dialoghi non erano dei migliori e mi hanno un po' estraniata, nel senso che sembravano un po' costruiti, ma più che costruiti sembravano poco curati, nel senso che c'erano nei dialoghi tra i personaggi dei repentini cambi di argomento, dei repentini cambi d'umore dei personaggi e anche i dialoghi mi sembravano poco veritieri, poco realistici e questo non mi ha fatto immedesimare appieno nella storia. Questo invece è risultato per altri lettori un punto a favore della storia, anzi perché, appunto, essendo tutta vista dal punto di vista di Eleanor ed essendo lei così psicologicamente molto debole, diciamo, i dialoghi erano falsati perché visse attraverso la sua mentalità. Questo è più o meno quello che è uscito dalla discussione del libro L'incubo di Hill House, se l'avete letto fatemi sapere cosa ne pensate. So che è anche uscita, è stata fatta, insomma, una serie tv basata su questo libro, ho iniziato a guardarlo, ho visto soltanto la prima puntata e devo dire che è abbastanza paurosa, insomma, io sono stata, cioè, in tanti punti mi sono chiusa gli occhi, però la storia è abbastanza diversa dal libro, in ogni caso sicuramente andrò avanti e vedrò anche la serie. Due parole veloci su un terzo libro che è stato nominato durante la serata perché, come sapete, solitamente leggiamo due libri proprio perché ogni libro viene approfondito in maniera accurata e quindi se leggessimo più libri le riunioni durerebbero troppo, però in questo caso una lettera ci aveva letto il libro di Stephen King, The Outsider, e ne ha parlato e ci ha fatto piacere, insomma, conoscere anche la storia di questo libro. In questo caso, principalmente, insomma, abbiamo parlato della trama che è abbastanza spaventosa, come ovviamente Safari King, ovvero è la storia, insomma, di un'indagine sul corpo di un bambino ritrovato o morto, non vi dico neppure come perché è talmente tremendo che mi ha fatto effetto anche ascoltarlo, figuriamoci se l'avessi letto. Comunque su questo corpo viene ritrovato il DNA di una persona, quindi è certo che l'assassino sia lui, ma in realtà questa persona, che poi è un allenatore di una giovane squadra di ragazzi, non mi ricordo di che sport, è comunque molto in vista, anche molto conosciuto nel paese, in realtà ecco, quest'uomo, il principale sospettato, l'unico sospettato, nel momento in cui il bambino è stato ucciso, si trovava da tutt'altra parte con un sacco di testimoni, con video che provano che lui era lì e che quindi non poteva trovarsi dove è stato ucciso il bambino. Quindi diciamo che l'indagine si svolge su questo, sul capire come è possibile che il bambino sia stato ucciso da qualcuno che non era lì in quel momento, perché comunque il DNA sul bambino c'è. Bene, quindi niente, la lettrice che ne ha parlato ha raccontato tutta la storia e il libro le è piaciuto, anche perché lei poi è una vera appassionata di King. C'è da dire sicuramente che anche in questo caso King si è dimostrato un maestro nelle storie che uniscono il soprannaturale alle paure più profonde degli uomini. L'unica analisi che mi viene in mente di fare è quella che probabilmente oggi siamo arrivati ad un punto in cui quasi non ci spaventiamo più di niente, siamo abituati a vedere un po' tutto, soprattutto attraverso i film e la televisione. È difficile che qualcosa ci terrorizzi veramente, forse l'unica cosa è proprio quando vediamo far del male a dei bambini. Quindi forse è questo lo strumento che usa King, mettere di mezzo qualcosa che ancora è capace di spaventarci, di farci non ridire, di farci arrabbiare, la violenza su dei bambini che indipendentemente dalle situazioni che abbiamo vissuto o dalle persone che siamo, dalla sensibilità che abbiamo, è una cosa che ci tocca sempre dentro. Quindi l'abilità di King sta proprio nel fatto che riesce a toccare queste corde più profonde dell'animo umano e che riesce ancora a farci spaventare, a farci non ridire di qualcosa. Bene, adesso andiamo avanti. Vi dirò qual è la tematica per i libri per il prossimo mese. Come sapete, io scelgo una tematica generale che accomuna una serie di titoli. Presento i titoli, leggiamo le trame e poi votiamo. I due libri più votati saranno quelli che verranno letti per il mese successivo. La tematica che ho scelto questa volta è stata psicologia, o meglio, libri scritti da psicologi, quindi non romanzi, bensì libri che appunto psicologi più o meno famosi hanno scritto per trattare vari argomenti. I libri erano diversi perché avevo trovato tanti spunti e quindi vi dico subito qual era la scelta che avevo messo in tavola. Il primo libro è Intelligenza emotiva di Goleman. Allora, questo libro parla appunto di un diverso tipo di intelligenza, o meglio, del fatto che molto spesso le persone vengano catalogate come intelligenti in base al loro quoziente intellettivo. Ecco, in questo libro l'autore vuole far capire che non è l'unico dato che conta il quoziente intellettivo, che a volte ci vuole anche un altro tipo di intelligenza, che lui appunto definisce intelligenza emotiva, un'intelligenza che possiamo chiamare anche sociale, ovvero una capacità di approcciarsi agli altri e alle situazioni che è indipendente dal quoziente intellettivo di una persona. È proprio l'unione tra questi due tipi di intelligenza a rendere una persona magari di successo o comunque capace di raggiungere i propri obiettivi. Il secondo libro proposto era Avere o Essere di Eric Fromm. In questo caso appunto una delle tematiche che forse è più discussa è sempre stata una tra le più discusse soprattutto nei tempi moderni. Che cos'è più importante? A che cosa diamo più importanza? A ciò che abbiamo o a ciò che siamo? Sembra un argomento abbastanza scontato o comunque sembra che la soluzione sia sempre semplice ovvero è più importante essere. Beh, in questo libro viene analizzato in maniera un pochino più approfondita soprattutto perché forse se ci riflettiamo appieno anche noi diamo molta importanza all'avere nonostante ci sembra di capire questo concetto in pieno quindi sicuramente una lettura che ci può illuminare su questo argomento. Il terzo libro è stato La vergogna un'emozione antica di Meluzzi. Meluzzi non so se lo conoscete ma è un autore che io credo sia un criminologo addirittura quindi ha scritto molti libri sulla psicologia degli assassini sulla psicologia che sta dietro agli omicidi e così via ma dato che mi volevo differenziare dalla tematica che avevamo affrontato in cui appunto qualche omicidio qualche crimine insomma era stato trattato ho deciso di selezionare un libro che trattasse un argomento un po' diverso ovvero in questo caso La vergogna in un mondo in cui oggi non ci vergogniamo più di niente non abbiamo vergogna a mostrarci nudi o seminudi non abbiamo vergogna neppure a mostrare la violenza l'autore analizza il fatto che appunto nella società moderna stiamo cercando di combattere questa emozione questo sentimento ma in realtà questo è un sentimento che abbiamo sin dalla nascita è naturale dentro di noi e appunto lo manifestano anche i bambini di 2-3 anni quindi è giusto combattere questa emozione questo sentimento oppure la vergogna è qualcosa di utile per la nostra sopravvivenza e per il nostro vivere quotidiano io credo che sia un argomento veramente molto interessante che mi ha colpita subito e quindi ho deciso di inserirlo nella lista altro libro selezionato è le parole che curano di Morelli Morelli lo conoscerete in molti perché è spesso in televisione e appunto in questo libro parla dell'importanza delle parole perché molto spesso ci viene detto che bisogna stare attenti ad usare le parole perché le parole possono ferire profondamente ma è anche vero che le parole possono anche curare forse se sappiamo usare le parole nella maniera giusta nel momento giusto e con intelligenza possiamo veramente aiutare gli altri non soltanto nel non ferirli ma addirittura nell'aiutarli a superare una situazione difficile infine ho selezionato tre libri di Crepe Paolo Crepe lo so tre titoli dello stesso autore sono tanti però devo essere sincera Crepe è un autore veramente interessante ha prodotto una quantità di libri su tanti argomenti sui quali veramente mi piacerebbe leggere praticamente tutti li vorrei leggere inoltre io l'ho anche visto dal vivo ho visto parlare se non sbaglio di onoressia al Salone del Libro di Torino e mi è sembrata una persona veramente intelligente quindi quando sono andata a selezionare le letture c'erano tre titoli che mi incuriosivano li ho messi tutti e tre il primo è Solitudini un libro che parla per l'appunto della solitudine delle situazioni che ci fanno sentire soli anche quando siamo circondati da persone o anche quando sui social ci guardano in tanti penso che la solitudine sia qualcosa o comunque quello che dice l'autore è che sicuramente la solitudine è qualcosa che non deve per forza apparire come negativa ma che a volte può essere una risorsa ma allo stesso tempo è qualcosa che a volte non sappiamo riconoscere che invece abbiamo nella nostra vita e che forse possiamo tra virgolette curare quindi niente mi è sembrato un argomento molto interessante e credo che l'autore lo tratti anche molto bene il secondo titolo selezionato di Crepe è sull'amore un libro in cui parla dell'amore in tutte le sue forme dall'innamoramento alla vita di coppia al matrimonio ma addirittura anche del fatto che a volte dobbiamo lasciare andare un amore quindi la fine di un amore insomma un argomento che alla fine ci tocca a tutti perché tutti prima o dopo siamo stati innamorati e che quindi potrebbe anche interessare qualcuno di voi infine l'ultimo titolo di Crepe è stato impara ad essere felice un libro che leggendo la trama mi ha subito conquistata infatti parla dell'importanza soprattutto nell'educazione dei giovani bambini dei ragazzi del far capire loro che la felicità non è qualcosa di irraggiungibile che si può arrivare ad essere felici ma soprattutto l'importanza di ricercare la felicità vera non la felicità quella effimera quella legata a cose materiali che ci sembra sembra soddisfarci all'inizio ma che poi se ne va e ci lascia un grande vuoto e soprattutto si rivolge ai genitori e agli insegnanti che hanno in mano le menti dei propri figli e dei propri bambini che devono far crescere e quindi l'importanza di far crescere i bambini con la consapevolezza che la felicità è qualcosa che si può raggiungere non è un mito inarrivabile che non bisogna accontentarci quindi niente questo è l'ultimo titolo che ho proposto per il tema psicologia alla fine quindi abbiamo votato e i due libri più votati sono stati La vergogna il libro di Meluzzi che avevo detto appunto che parla della mancanza di vergogna nell'epoca moderna e Impara ad essere felice di Crepe l'ultimo libro del quale vi ho parlato e sono molto felice che siano stati scelti questi due perché mi interessano entrambi molto se riesco li leggerò tutti e due altrimenti leggerò quello di Crepe voi invece c'è un titolo che vi interessa tra quelli che ho proposto avete letto qualcuno dei libri di paura dei quali abbiamo parlato durante la riunione insomma come sempre mi fa piacere avere la vostra opinione e noi quindi ci vediamo prestissimo con un altro video ciao